appunto vi ho raccontato come conosciuto skyway allora come vi ha lasciato la nostra mia amica splendida milena lunedì al webinar di presentazione dove vi ha fatto vedere la mission dell'azienda la tecnologia vi ha fatto vedere un po tutto tutto quel bellissimo progetto per rinfrescarci un attimo le idee vi faccio vedere un video dove facciamo un diciamo resoconto personale ok allora un attimo solo dai video siete pronti ecco o d 1 2 India 2 3 4 5 6 Grazie a tutti. 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 Master Profi. Grazie a tutti. Supporto. dopo la formazione. Grazie a tutti. 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 In questo luogo stiamo parlando di 500 milioni che saranno condivisi tra di noi. Inoltre è anche un mercato immobiliare. Un enorme numero di milionari è nato nel multilevel business e grazie al multilevel crowd investing nasceranno molti miliardari. La formazione è stata creata da Andrei Hovratov, investitore professionale multiprofilo, direttore generale del gruppo di società Skyway Invest Group, conduttore del programma Segreti dei Milionari e miglior business coach di sviluppo finanziario e personale del 2018 secondo le riviste Melon Rich e Finance Times. Con l'aiuto di questo training acquisirai conoscenza dei fondamenti di investimento, di creazione del proprio piano finanziario e delle entrate in controcapitale. Farai i primi passi negli investimenti. Imparerai i 20 segmenti del mercato degli investimenti. Imparerai come testare gli oggetti e gli strumenti di investimento. Creerai il tuo portafoglio di investimento. Imparerai come valutare i risci e le partite e come proteggere i tuoi investimenti. Familiarizzerai con strategie di investimento del valore di 10.000 al mese. Scoprirai che cosa è il multilevel crowd investing, piani pensionistici alternativi e molto altro ancora. Consiglio a tutti di partecipare al Master Profi. Master Profi è un evento meraviglioso che ogni persona deve frequentare. Bene, questo mi ha fatto impazzire. Le conclusioni a cui sono arrivato durante il processo mi hanno salvato almeno diversi anni della mia vita. I tre giorni di intensa formazione ti costringono a ripensare alla tua vita. La conoscenza che ottieni sarà sempre ripagata e soprattutto Master Profi. Tutto ciò che sembra difficile nella vita può essere superato. La mattina dopo il training ti sveglierai una persona diversa. Venite al Master Profi. Questa è la vostra nuova vita. Master Profi unisce migliaia di persone in tutto il mondo alla ricerca del successo e della prosperità. Non hai bisogno di milioni per diventare un investitore di successo. Hai bisogno di conoscenza. A scena voce. Un'altra natura. Sì. Allora, vedete le slide? Sì. No. Dove c'è il punto di interrogativo. Grazie. Eccoci qua. Allora, come vi avevo detto prima, vi consiglio vivamente di fare questo corso, signori, perché è un corso fantastico. Il Master Profit vi dà la base per imparare a investire, la base per selezionare i vostri investimenti, vi dà la base per iniziare un'attività, per diventare dei leader. E poi una cosa particolare è che viene fatta dal top dei formatori dell'Azienda. Quindi vi consiglio vivamente di fare questo corso. I pacchetti formativi, come l'azienda ci ha messo a disposizione, come vedete sono pacchetti di tutti i tipi, proprio perché chi li ha fatti, chi fa corsi di formazione sa che i corsi costano un sacco di soldi, l'azienda dà la possibilità a chiunque di fare anche dei pacchetti di formazione a rate, con 10 rate. Per esempio un pacchetto da 1000 dollari si può fare con 100 dollari al mese, un pacchetto da 2500 dollari si può fare con 250 euro al mese, in 10 comoderate direttamente con l'azienda, senza passare da finanziamenti o finanziarie o robergarie, ma direttamente con l'azienda, quindi non avrete né finanziamenti aperti, niente, è un accordo diretto che fate con l'azienda. Quindi come vedete avete tanti tipi di pacchetti, personalizzatevi, ma prendete un pacchetto di formazione e farlo, perché questo è il business, signori. Questo è il business, signori, questo... Ok, allora, dopodiché vi voglio presentare un pacchetto in promozione, che è una cosa che l'azienda mette a disposizione, è un pacchetto promozionale, è un training program AP di 4400 dollari, ma in questo pacchetto, signore, avrete la formazione per diventare un consulente e avrete il grado da consulente. E l'azienda per la formazione acquistata vi premia con un bonus di 220 mila quote di Skyway. Signori, inoltre, come vedete nella slide, abbiamo anche il corso Master Profit in omaggio. E il corso Master Profit, signori, costa 2000 dollari, quindi in più avete questa grande opportunità. Ma questo pacchetto non solo è un pacchetto dove vi dà il grado di consulente, ma vi fa avere una formazione veramente di alto livello. Quindi è in promozione per chi vuole fare attività. È veramente un pacchetto eccezionale. Oltre che vi dona, come ho detto prima, 220 mila quote di Skyway. Ma adesso andiamo a vedere un attimo nel concreto il business, ok? Perché fino adesso vi siete formati, quindi state facendo formazione, ma voi mi crederete dov'è il business, ok? È proprio qua sta il business. Come vedete, prima di andare al business, vi voglio far vedere un'altra slide dove vi elenco praticamente tutti i pacchetti a disposizione che voi avete. Noi abbiamo pacchetti per tutte le tasche. Si può iniziare da 5 dollari fino a 100 mila dollari, ok? Quindi non è detto che una persona deve prendere un pacchetto da 4 mila o da 10 mila o da 20 mila, ma prende il pacchetto per le sue esigenze, ok? Allora adesso andiamo a vedere quali sono le forme di business che noi offriamo ai nostri partner. Come vi ha spiegato lunedì Milena, quello che vedete è un po' come funziona la parte, diciamo, della nostra attività. Quando noi vendiamo un pacchetto, grazie all'accordo commerciale che è stato fatto tra Andrei Cavrato e Anatole Iunischi, questa partner cosa consiste? Consiste che tutti i corsi che noi vendiamo di formazione, il 60% di questi fondi li trasferiamo a Skyway, ok? Skyway li usa per realizzare quello che è l'Eco Tecnopark e in cambio vi dona queste quote, queste share di quote della propria azienda, ve le dona, ok? Queste quote hanno comunque un valore, hanno comunque una certa consistenza. Perché? Perché questo è proprio il primo business a lungo termine, quindi un guadagno a lungo termine, che voi avete. Perché? Perché è molto semplice. Le quote di un'azienda, oggi, che vi è stato donato, quindi prendiamo l'esempio del pacchetto da 4.400 da consulente express, vi regala 220.000 quote. Cosa vuol dire? Vuol dire che da qua alla fine della fase 15, quando l'azienda si preparerà ad entrare in Ipo, in quel momento quelle quote hanno un valore da certificato che viene rilasciato di un dollaro. Quindi voi analizzate un po'. Voi avete investito 4.000 dollari e 4.000 sulla vostra formazione, quindi sulla vostra persona, e l'azienda vi regala 220.000 dollari. Cioè, dove trovate un'azienda del genere? Che vi forma per fare l'investitore, vi insegna come investire e vi dà anche il denaro per investire. Se voi conoscete un'altra azienda che fa una cosa del genere, fatemela conoscere che la valuto. Perché è veramente una cosa unica, non esiste. Ma queste quote, se al momento che entreremo in preparazione per l'Ipo, come ha detto anche Milena lunedì, si aprirà un borsino interno per poter scambiare le quote. Quindi se qualcuno vuole cedere le proprie quote, le può cedere nel borsino interno, al valore di un dollaro. Quindi ha a disposizione 220.000 dollari. Ma non è solo questo. Noi chiaramente il progetto della mission dell'azienda è molto lungo, è quello di costruire tante linee, è quello di entrare in Ipo, prepararsi per entrare in Ipo, quindi all'interesse della pubblica offerta. Perché? Perché da là a 4-5 anni la volontà dell'azienda è quella di essere quotata in borsa. E vi garantisco che un'azienda di questa dimensione, di questa tipologia è, diciamo, per chi opera nella finanza, sa che è un'azienda che entrerà sul mercato molto pesantemente. Quando avrà comunque quei 50.000, 40.000 chilometri di linee fatte, è un'azienda che entrerà sul mercato e entrerà in borsa con 5, 10, 15, 20 dollari. 50 dollari ad azione. Prova, si ipotizza chiaramente, mi raccomando, non pentate. È un'ipotesi fatta dai guru dell'economia. Moltiplicate 220.000 quote per 50 dollari. Cosa avete in mano? Questa è una rendita, ma non solo. Stiamo parlando di rendita passiva. Cosa significa? La rendita passiva è, signori, questa azienda nel 2019 è entrata in produzione. Alla fine del 2015, alla fine della fase 15, che finisce la fase start-up, entra in produzione. Chiunque è possessore di quote è coproprietario. E come tutti gli anni, a fine anno, una qualsiasi azienda chiude i bilanci e riparte i dividendi, riparte gli utili. A chi? Ai coproprietari. Quindi, dal 2020 o 2021, inizieranno ad arrivare anche la rendita passive dei dividendi che l'azienda avrà. Quindi, questo è un attimo. È il primo guadagno a lungo termine che il business di Skyway Invest Group vi dà. Il secondo guadagno, qual è? Quello del, a breve termine, diciamo, il guadagno immediato è quello dell'informazione del multilevel, del crowd investing, perché come vi ha spiegato Milena Lunedì, diciamo, noi divulghiamo, raccogliamo, diamo una mano a divulgare questo progetto in multilevel crowd investing. In multilevel crowd investing, chiaramente, chi vuole fare questo tipo di attività può, diciamo, operare con noi in questa tipo di attività. Qual è il guadagno? Molto semplice. Come tutte le aziende di network, chiaramente, abbiamo un business plan anche noi di guadagni. Adesso, andiamo a vederlo. C'è parte? No, non c'entra nulla. Sì. Ok, vi salto questa slide perché ne abbiamo già parlato, delle quote. Questo, comunque, vi facevo vedere, era, tornare al discorso di prima, questo signore che lo conoscete, si chiama Mark Zuckerberg, l'ideatore, fondatore, proprietario di Facebook, nel maggio del 2012 è entrato in Ipo con delle quote a 38 dollari e 32. Oggi, il valore delle quote di Facebook è di 190,28 circa. Cosa vuol dire? Che chi ha comprato le quote, mille quote, 10.000 quote in Ipo, oggi, il valore è praticamente quadruplicato, quintuplicato. Quindi, questo è il vantaggio che vi spiegavo prima del ritorno a lungo termine. La stessa cosa l'ha fatto l'ex, il fu, Steve Jobs, con Apple, nel dicembre del 1980, è entrato con una, in Ipo, con un 0,50. oggi le quote valgono 162 dollari. Quindi, pensate che incremento e che capitalizzazione ha avuto questa azienda, signori. È veramente una cosa eccezionale. Come vi dicevo, invece, il secondo business col guadagno immediato è quello del multilevel crowd investing. Perché multilevel crowd investing? Perché per noi dobbiamo divulgare questo progetto, perché noi vogliamo, come ha detto Milena Lunedì, coinvolgere il 15% della popolazione mondiale in questo progetto. Quindi, se voi, tanto lo fate lo stesso, vi capita spesso di magari andare a mangiare in un posto dove vi siete trovati bene, un ristorante dove siete trovati bene, o la parrucchiera, o il bar, e qualcuno vi chiede un consiglio, la prima cosa che fate, dite, vai là perché il ristorante si mangia benissimo, e gli fate promozione al ristorante a livello gratuito, perché non vi danno a lire al ristorante, anzi, se andate a mangiare la seconda volta vi fa pagare ancora. Quindi, è un passaparola, chiamiamolo così per capirci bene, un passaparola, e l'azienda, se voi fate il passaparola, vi premia con dei bonus, vi dà del denaro, ok? Perché? Perché giustamente anche noi abbiamo un piano provvigionale, e quindi vi dà del denaro. Però voi sinceramente direte, come si fa a fare attività non ho tempo, perché io lavoro otto ore al giorno, quindi tornare a casa non ho tempo, avete ragione, otto ore al giorno, se poi ne devi dedicare anche altre otto ore alla nostra attività, effettivamente non hai più tempo per... Però, se vi dico che non servono otto ore al giorno, magari quattro... No, neanche quattro. Sì, scusate, ma c'è il mio sponsor qua che continua a farmi ridere, e ha fatto un colpo di tosse, quindi chi lo conosce sa di chi sto parlando. Stavo dicendo, è chiaro, avete, non avete a disposizione tutte queste ore di tempo da dedicare, bene, avete da dedicare un'ora alla settimana, quindi quattro ore al mese, un'ora alla settimana, quattro ore al mese a questa attività. Bene, la slide che vedete vi fa vedere un'attività di quattro ore al mese per un collaboratore, quello che può riuscire a sviluppare in un anno di lavoro, perché qua, come vedete, basta portare un collaboratore al mese, occuparsi di lui, insegnargli a fare la stessa cosa che fate voi e così via. Se voi vedete il primo mese avete un collaboratore, il secondo mese due, quattro, sei, voi ne dovete sempre portare uno. Quattro ore di lavoro al mese, un'ora in cui chiamate, fissate l'appuntamento, due ore lo portate a un meeting, la quarta ora, signore, dopo avere il meeting che l'avete iscritto, vi sedite con lui e gli programmate l'attività, gli insegnate a fare quello che fate voi. Signori, questo tipo di attività sviluppato in un anno, se voi vedete l'ultimo numero a fianco, vi porta a un numero di 4.095 collaboratori. Cioè, non so se vi sembra facile una cosa del genere, in un'attività normale è veramente impossibile, in un'attività come la nostra è possibile, con quattro ore al mese. ma questo numero, tenetele presente, perché la media italiana nostra di pacchetti di formazione che noi vendiamo è molto più alta di quello che voglio prendere io come esempio. Prendiamo un esempio di 500 euro a pacchetto, scusate, 500 dollari a pacchetto. Quindi, moltiplicate 4.095 per 500, fa circa 2 milioni e qualcosa. La nostra azienda per tutti i collaboratori che iniziano a collaboratore col piano provvigionale in primo livello praticamente ha una provvigione dell'8% sulla propria vendita. Il 7% sul secondo, quindi andiamo a vederlo che magari si vede bene. quindi fate una media quindi tra l'8 il 7 il 5 il 4 il 3 facciamo una media del 5% quindi moltiplichiamo 2 milioni per il 5% sono circa signori 100 sono 100 100 mila euro circa sono 100 mila euro circa ma adesso voglio dire 100 mila euro pensate che c'è gente che lavora 8 ore al giorno per portare a casa 1500 euro al mese dai 1500 ai 2000 euro al mese qui stiamo parlando di lavorare 4 ore al mese per portare a casa in un anno 100 mila dollari quindi vedete voi se ne vale la pena impegnarsi magari anche magari impegnarsi più di 4 ore al mese o magari sviluppare più di un collaboratore al mese ok come vedete in questa slide abbiamo i livelli provvigionali quindi si entra come partner e al primo livello come partner voi avete l'8% sui vostri diretti il 7% sui vostri collaboratori in prima linea vuol dire che i vostri collaboratori diretti hanno fatto lo stesso lavoro che fate voi quindi sul lavoro che fanno loro voi prendete il 7% da partner invece sul terzo livello sulla terza linea a scalare voi avete il 3% quindi la cosa ideale da fare subito qual è? quella di entrare e diventare agenti è molto semplice basta che voi portiate due persone dirette che facciano un investimento minimo di 200 dollari e diventate agenti quindi in quel momento in terza linea avete il 5% in quarta linea il 4% poi chiaramente continuate diventate consulente e così via quello che vedete sono i livelli provvigionali quello che vi voglio far vedere invece è dal sesto livello in poi perché qui questo è un piano marketing praticamente la prima parte è un piano marketing abbastanza standard come ci sono tutte anche altre aziende che ce l'hanno ma la cosa che differenzia questo piano marketing da tutte le aziende di network da tutti gli altri piani marketing è proprio dal sesto livello in poi perché chi ha fatto marketing chi ha fatto network sa che più si cresce in carriera e più si abbassano le differenze provvigionali sul proprio gruppo ecco da noi le parti sono invertite più si cresce come vedete di carriera e più la differenza provvigionale sale ma la cosa bella è che all'infinito la differenza provvigionale all'infinito quando siete presidente avrete dal 7 all'8% da consulete avete già dall'1,5% al 3% da manager dal 3 al 4% ma all'infinito su tutte le persone che entrano nella vostra rete per differenza imprenditoriale ok quindi questo è il nostro piano marketing questa è la nostra chicca perché giustamente è diverso da tutti gli altri piani marketing che io ho visto in aziende di network quello che vediamo adesso è un po' la carriera gli status dell'azienda quindi come ho detto prima si entra da partner sotto qua vedete praticamente un piccolo esempio di cosa possono essere i guadagni mensili ok da da partner avete dai 30 ai 200 euro da agente già dai 50 ai 300 euro ai 300 dollari al mese da consulente da 300 a 1000 da manager da 1000 a 10.000 e così salendo per la carriera fino ad arrivare a presidente che arriviamo a oltre un milione di dollari al mese questa è come ho detto sono guadagni indicativi ok però questa è la carriera che l'azienda vi offre oggi vi posso dire che in tutto il mondo abbiamo due top manager otto top manager abbiamo nessun vicepresidente e nessun presidente abbiamo una 15 15-20 leader manager quindi il posto lo spazio ce n'è da solo a voi a iniziare a lavorare a darvi da fare perché essendo una carriera meritocratica è molto semplice diciamo lavorare non è facile è semplice ma non facile perché? perché come tutti i lavori di network è una carriera meritocratica se si fa si ha se non si fa non si può pretendere ok quindi questa è un po' la nostra carriera aziendale adesso voglio farvi vedere questa slide dove vedete quattro personaggi che conoscete tutti Steve Jobs Bill Gates Larry Page e Mark Zuckerberg parliamo di Apple parliamo di Facebook parliamo di Google parliamo di Microsoft se queste persone cosa avreste pensato se queste persone all'inizio della loro carriera avrebbero mandato un invito avreste accettato oppure ci sono solo poca fiducia però giustamente oggi col seno di poi eh e se ti invitassi io oggi a prendere parte a un progetto che ingloba un po' tutte le loro idee cosa ne dite? di sì o no? perché signori queste due persone li stanno invitando a venire con noi vi stanno invitando a una possibilità che io è stato cioè ho preso al volo perché per me è stata la cosa che mi ha fatto entrare in questa azienda proprio quella frase che vedete scritta sulla slide rimani seduto a leggere la storia oppure ti alzi e la scrivi con noi io ho visto in questa azienda la possibilità di scrivere la storia ho visto in questa azienda la possibilità di mettere il mio nome sui libri di storia ho visto la possibilità di lasciare questo mondo meglio di come l'ho trovato perché purtroppo come stiamo andando avanti non è bello quindi per me è stata una grande molla quella di iniziare questa attività proprio perché ho la possibilità di scrivere la storia voglio un po' dirvi una cosa pensate che c'è come noi come tutti quanti stiamo sempre cercando un qualcosa o un prodotto che ci dia un po' la tranquillità quando smetteremo di lavorare quando non avremo più la possibilità perché? perché arriveremo alla fine del nostro cammino lavorativo andremo in pensione e quindi cosa facciamo? ci rivolgiamo alle compagnie assicurative che ci offrono dei prodotti dove dobbiamo risparmiare piccole cifre magari per 25 30 anni per poi arrivare alla fine della nostra carriera lavorativa per poterne godere ok? ma se ci fosse oggi la possibilità per voi di risparmiare una piccola cifra per solo 10 mesi massimo un anno per avere una grossa cifra quando vi servirà quando smetterete di lavorare da integrare alla pensione che vi darà lo Stato sarebbe una cosa buona oppure no se fosse la possibilità sarebbe interessante oppure no bene noi possiamo anche offrirvelo pensateci se vi interessa chiamateci e fatecelo sapere ok? il mio webinar per stasera è finito se ci sono delle domande adesso potete farle io intanto 10 minuti e vi rispondo a tutte le domande ok? intanto grazie per avermi ascoltato grazie per la vostra disponibilità a presto andiamo con le domande non si vede niente domenica ok ma questa era una prima risposta ok grazie Valentina grazie infinito prego Valentina non ci sono domande c'è qualcuno che vuole fare delle domande sono qua posso rispondervi fatele pure allora c'è una domanda ok andiamo a vedere subito qua mi dice con mille dollari sotto diventa consulente? no con mille dollari uno non diventa consulente ma ha la possibilità di diventare consulente lavorando nel senso che lui fa nella sua crea una sua rete di quattro agenti in quel momento quando lui crea quattro agenti ottiene il grado da consulente investendo solo mille dollari quello che avete visto prima che vi ho mostrato prima è un pacchetto promozionale dove acquistando quel pacchetto avete la formazione per diventare subito consulenti e vi danno anche il grado da consulenti ok vediamo un po' ok ho visto che non si sentiva niente tutti mi dicono che non si sentono ma avete sentito se non ci sono altre domande allora ragazzi vi saluto e vi do appuntamento al prossimo webinar che vi faremo sapere quando si farà ok settimana prossima di sicuro dice il mio sponsor che è qua e vi saluta e vi ringrazio anche lui buonasera a tutti grazie a tutti grazie a tutti